Allora ragazzi, in questo video che non è un video di routine del mio canale, voglio solamente riportare un fatto che è accaduto durante la partita Australia-Arabia Saudita, non durante e prima della partita. Sappiamo tutti che è stato deciso di fare il minuto di silenzio all'inizio di ogni partita delle nazionali rispetto alle vittime dell'attentato che c'è stato purtroppo nei giorni scorsi a Londra. Un minuto di silenzio che hanno fatto i tifosi, i tifosi, oltre ai tifosi, i giocatori dell'Australia lì al centrocampo, a differenza dei giocatori dell'Arabia Saudita che hanno occupato questo minuto posizionandosi in campo, sistemandosi i calzattoni per il match. In poche parole loro non hanno rispettato questo minuto di silenzio. Quindi ragazzi, fate voi. Cioè, io sono senza parole. Fate voi.